Sembrava un sabato pomeriggio come tanti altri per Guido Raspantini, ma il destino gli aveva riservato gli ultimi momenti di una vita già segnata da mille ostacoli, superati sempre con il sorriso sulle labbra, quello che regalava quotidianamente a tutti il ventenne di Roccapiemonte, stroncato improvvisamente da un infarto mentre si accingeva a giocare una partita di calcetto con il gruppo di amici di sempre. Quello delle uscite, quello delle vacanze, dei falò d'estate sulla spiaggia delle pizze in giro per la città della zona. Guido Raspantini era andato ieri pomeriggio con gli amici sugli spalti del campo sportivo Ravaschieri di Roccapiemonte per dare un'occhiata alla rocchese di mister Giovanni Liguori, protagonista del campionato di prima categoria, la squadra della sua città insomma. La gioia per il 2-0 dei Rossoblu ottenuto contro il Sirignano, la voglia di scendere in campo e dare quattro calci ad un pallone nel solito campetto di calcetto situato tra le frazioni di Roccapiemonte, San Potito e Casali. Tutto normale, tutto come sempre. Guido, tifosissimo del Napoli, per questo nella sua pagina Facebook si faceva chiamare anche Marek, cioè il nome del suo idolo Hamsik, aveva avuto alcuni problemi cardieci da piccolo, superati però brillantemente, tanto da non inficiarne la possibilità per lui di svolgere normale attività fisica, di certo però non agonistica. La sua passione per il calcio, non potendolo giocare, si era trasformata nella passione per allenare i più piccoli. Il papà Roberto, poliziotto in servizio alla questura di Salerno, conosciuto in città anche perché ex calciatore della Rocchese, è rimasto sempre vicino alla formazione locale e quest'anno il presidente del settore giovanile della locale Compagine, il giudice Mario Pagano, gli aveva offerto la possibilità di allenare i pulcini della Rocchese, il primo gradino per diventare chissà il nuovo Mazzarri. Un fratello maggiore per i ragazzini che allenava Guido, un amico vero, leale. Gli sono stati vicini il presidente della Rocchese, Carmine Pagano e tutti gli altri dirigenti e tecnici della squadra, dimostrandogli piena fiducia. Un piccolo maestro di calcio per i suoi allievi. Guido Raspantini però non voleva fermarsi all'insegnamento. Ogni tanto voleva continuare ad assoprare la voglia di dare un calcio ad un pallone, per sentirsi calciatore, quello che lui avrebbe voluto diventare. Invece il suo cuore lo ha tradito e stavolta non c'è stato nulla da fare. Forse i soccorsi sono arrivati in ritardo, si dice in città. Forse si tornerà a parlare della necessità che tutte le strutture sportive vengano dotate di un defibrillatore. Sta di fatto che Guido non ce l'ha fatta. Inimmaginabile il dolore che stanno affrontando papà Roberto, mamma Isabella, i fratellini Simone e Francesca e la dorata nonna Tina. Tutta Rocca Piemonte si è stretta attorno alla famiglia Raspantini in questo triste momento. I funerali nel pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista.